Musica Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nostro nuovo unboxing Io sono Xyuder e io la Pami Allora ragazzi ve l'avevamo promesso in live ho fatto un piccolo change ho fatto Cos'è che ho comprato? Il mouse E non dirlo come se ne sembra che ho Il mouse Il mouse Allora ragazzi ho scoperto che su Amazon non era disponibile Fallo vedere il mouse Lo fa vedere Che mouse è questo? Pro wireless Pro wireless Da pro Da pro Intanto mentre lei toglie la carta ragazzi Vi stavo dicendo che su Amazon non ho trovato purtroppo il G Pro Wireless Il Logitech Siccome lo cercavo e il Wolves che ho io purtroppo non funziona Più bene Sono andato dagli amici di PC Hunter Dì la verità prima hai fatto la chiamatina tattica Ho fatto la chiamatina tattica a Peppe Ragazzi se chiamate PC Hunter chiedete di Peppino E ditevi gli manda Xuder Sono dei grandi Sono adesio Monza e Brianza ragazzi Poi ci sono spostati in una nuova location da paura ragazzi Non spoileriamo tutto Se vogliono andare a vedere Vanno a vedere Fai vedere in cam bene questo G Pro Wireless Vi ricordo ragazzi dovrebbe essere il non plus ultra dei mouse senza filo Quindi arrivederci al mio G Wolves Per tutti quelli che Oh sei già disconnesso Adesso vediamo se si disconnetta o non si disconnette Problemi di connessione Mi piange il cuore Ciao G Wolves Ciao È stato un piacere Benvenuto a Logitech G Pro Wireless Adesso le cade siamo foregati Mi cade come la cosa Wow Wow Che leggerezza signori G Pro Wireless Semplicemente comodissimo Adesso c'è sotto la pellicoletta Il filo è per caricare Sensore 16K Non ho idea di che cosa voglia dire Vorrei fare un piccolo confronto Bah Quei 20 grammi in più In realtà sono 18 grammi in più del G Pro Wireless Devo dire che non si sentono Addirittura Quelli qua c'è il contatto Il contatto di che cosa? Di Instagram Ah il contatto per Quelli sono Non c'è neanche un foglio per leggere No te lo devi Cioè prendetevi il mouse e andate da quel paese Nel senso Sì andate in pace Sono leggerissimi ragazzi Voglio fare proprio una prova tecnica Se non lo senti neanche E non ha il filo Insomma ragazzi Comodo Qua dentro Qua dentro il filo Qua dentro il foglio C'è un foglio C'è un foglio Possiamo vedere il foglio per favore Vogliamo vedere se c'è qualcosa di interessante Magari Agiti Logitech Attenzione Qua voglio i soldi da Logitech Perché sto sponsorizzando Keep playing Uè c'è Fortnite LOL Cos'è che c'è Non so c'è Fortnite Porca miseria Ma chi se ne frega Fammi vedere un pochettino L'adesivo di Logitech Meraviglioso Vai Non si lanciano così le cose Io non tanto Adesivo Logitech Non Perché no? Cioè non ci sono altri fogli Non ci sono Ah ci sono questi Pro Wireless Un secondo Ci sono delle informazioni Su come collegare signori Il Pro Wireless Fammi vedere Prego Ma chi se ne frega No Non si buttano Guardate che le usiamo un attimo Le istruzioni Un secondo Buongiorno Complimenti per l'ottima scelta Inserire il treppiede No Questo era Aldo Giovanni e Giacomo Insomma ragazzi Chi se ne frega Proveremo Da lunedì Il G Pro Il G Pro Wireless Ma ci Momento pubblicità Ma ci danno dei soldi Per pubblicizzarli Non ci danno Vabbè No io ve li consiglio seriamente Ragazzi Perché sono Dei grandi Mouse Tanta roba Passate in live Su Twitch Ragazzi Per vederlo insieme Noi vi ringraziamo Per avervi Grazie per essere stati qua Nostro unboxing Un beso Noi ci vediamo Appena ci sono In live su Twitch Ciao 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 Ciao